Il mercante, noi ci occupiamo di coltivare lo zafferano, l'olio e facciamo anche delle marmellate. Lo zafferano viene raccolto, viene seminato in ottobre, seminato in agosto e raccolto in ottobre, poi viene assiccato e imbustato e poi dopo questo zafferano noi non lo usiamo solo per fare il risotto, ma ci facciamo le tagliatelle, ci facciamo anche i biscottini, l'agnello, facciamo anche dei tortelli allo zafferano e poi in più coltiviamo olio qui nella nostra Maremma toscana e bene, vi aspettiamo qui al mercante per farvi assaggiare le marmellate, i biscotti e tortelli e le tagliatelle, soprattutto le tagliatelle che hanno un grande successo. Grazie.